Il Comune di Castel Dazzano, assessorato al commercio e tempo libero, in collaborazione con Comitati, Associazione e l'Istituto Comprensivo Cesari, organizza la prima edizione del Gioca il Gioco, per bambini e ragazzi fino ai 13 anni. Hai dei giocattoli che non usi più? Vuoi fare spazio nella tua camera? Vieni a scambiarli o a venderli a Castel Dazzano e crea il tuo negozio e la tua insegna. Play the Game, gioca il gioco, domenica 10 aprile 2016, presso il Parco Razzol dalle 15 alle 18. Ingresso da Via Marconi, vicino alla baita degli Alpini. Play the Game, gioca il gioco a Castel Dazzano, Verona. Scarica la scheda di adesione da www.comunedicasteldazzano.it e www.eventiacasteldazzano.it. L'iniziativa Valore Educativo, intende sensibilizzare i bambini e i loro genitori sul tema del riutilizzo e sulle opportunità di dare valore economico alle cose che possiedono e quelle che desiderano avere.